Foglio, vedo un foglio Vado da mio padre Gli dico che cazzo è questo? Cos'è? E' la fattura E' la fattura che devi pagare per E' la fattura che devi pagare per aver Fatto il Porco di Dio! Dell'Audi No? 6 euro Va bene Ci sta un tagliando Cambio olio e quant'altro Io a mio padre gli ho detto Guarda Diglielo il problema Diglielo il problema qual'è Io a mio padre gli ho detto Guarda che sono le mentole dentro della biglacolo No? E là gli ho detto Ma è tutto normale questa Perché quando fa È tutto normale Gli erai fatto vedere il coso? Il cazzo! Gli erai fatto vedere? Mi ha detto Sì sì Allora perché io a mio padre Quando io parlo Mi padre capisce Una volta che l'ha capito Che ha capito qual'è il problema Cioè Una volta che ha capito qual'è il problema Qual'è il problema? Qual'è il problema? Qual'è il problema? Che io a mio padre gli ho detto A mio padre gli ho detto Vai Alla uscianna Ok? Mio padre Dove è andato? Mio padre Porco di Dio Porco di Dio Porco di Dio Porco di Dio Porca Madonna Porco di Dio Guarda ci stanno i loghi Porca Madonna I loghi Dove sta scritto Onshan Porca Madonna Mi ha portato la macchina Mi l'ha portata su un concessionario Su Un'officina Volkswagen Nescova Gli ho detto Gli ho detto Dove è andato Onshan Mi padre dove è andato Da un amico suo Che gli ha detto Sì siamo autorizzati Onshan Porca Madonna Ci ho parlato io Con questo testo di cazzo Se me sta bene Porco di Dio Cioè parlo io con questo Ci sono parlato io Gli ho detto Siete autorizzati Onshan Mi fa Indirettamente Che significhe indirettamente io Indirettamente che Che scoda Alla fine gli ho detto Sei autorizzato Audi Non mi ha detto No Mi ha detto Cazzo Porca Dio P AAAAAAAA